Buongiorno, salve, io adesso mi sto alzando a fare la palicia Buongiorno a tutti, inauguriamo questo video così euforicamente come sono sempre, ma per un motivo ben particolare Prima di tutto perché con questo video inauguro un nuovo format che vi voglio proporre da oggi in poi Voglio portarvi con me non soltanto nei viaggi più importanti, quelli che si fanno una volta, io una volta ogni mese, una volta l'anno Ma anche nella vita quotidiana di tutti i giorni, delle faccende domestiche, delle faccende che sbrigo ogni giorno Le mie lezioni al conservatorio, palestra, insomma la mia vita quotidiana E questo format l'ho chiamato daily bread, proprio così pane quotidiano per rendere proprio l'idea del quotidiano E lo inauguro con questi 5 giorni bellissimi che mi sto apprestando a vivere Perché ho vinto col conservatorio una borsa di studio di 15 giorni presso il chat di Mogol Dove studierò composizione, dove studierò per quanto riguarda l'essere autore di testi eccetera eccetera E vi porto con me in questa avventura assolutamente folle che tra l'altro mi appresso a vivere con una mia compagna di conservatorio Una mia collega, Erminia, che conoscerete prestissimo E niente, facciamo la valigia Mumi, mi raccomando non dare fuoco alla casa, ok? Mi raccomando non fare festini, ok? Ok? Donna, sembra veramente un bravo ragazzo Questi qua sono capelli bianchi veri eh Un saluto? Vabbè Non puoi muovere? Che c'ha fatto? Dovevo pagare? Ma perché mi ha detto quanto è? Quant'è? Te lo dici da mattina Ah però scusami se non me lo dicevi, io non sapevo quanto ti dovevo dare Ah erano ancora bimbi? Sono allibita anche lei Ma scusami veramente? Non me lo sapevo Cioè io non sapevo che mi avessi detto quanto è Ma io non ho detto niente Eh aspettavi così Aspettavo che facevate i vostri comodi Capisco Ah che gente ne è Vabbè E quindi Aspettati Prego 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 Ecco Grazie Lei è gentilissimo E anche tu sei bellissimo Grazie Arrivederci Arrivederci Buona Buon lavoro Buon lavoro Come devo dire? Siamo arrivati Salve buonasera siamo del conservatorio di Salerno Che variata qua dentro Che variata Sono spaventatissima e eccitata allo stesso tempo Ciao Andiamo Ciao Sono tutti troppo seri qua Che cazzo